Ciao a tutti e bentornati ad un altro torneo dei titani! Oggi siamo nell'arena del Supersalto di Ray 6, dove non esistono limiti. Vediamo cosa affronteranno i nostri Monster Trucks. Dovranno sfrecciare su queste colline in cui troveranno la discesa più ripida di sempre. Guardate qui! Poi dovranno prendere più spinta che possono per fare il Supersalto e attraversare l'anello di fuoco. È meglio che si tengono al fresco, c'è in palio la Coppa dei Titani! Accetto la sfida! Ah ah! Adoro le sfide! Cominciamo! I primi sono... Roger Dodger! Contro... Ray 6! Accendete qui i motori! Accidenti! È un grande inizio per questa gara! Vediamo il replay! Sì! Entrambi i Monster Trucks fanno una bella partenza! Ray 6 riesce a superare Roger Dodger! Entrambi sembrano fare un bel salto! Roger Dodger svolta a sinistra per evitare l'anello di fuoco! Ray 6 affronta le fiamme, attraversa l'anello e arriva fino al traguardo! Che finale! Si! Non ho paura di nessuna sfida! Non ho paura di nessuna sfida! Vai Valarm! Contro... Tiger Shark! L'anello di fuoco è pronto per la sua prossima vittima! Hanno fatto scintille! Rivediamolo! È un inizio saltellante per Tiger Shark che viene superato da Five Alarm! Five Alarm sprecia lungo la collina! E sembra proprio che stia per vincere! Oh no! Che sorpasso! Five Alarm colpisce l'anello e si schianta poco prima del traguardo! Tiger Shark ha la strada spianata e supera il traguardo! Ta-da-da-da-da-da! Tiger Shark vince! Temete la furia! Mega Rex si sta preparando per la prossima gara! Chi ha i denti più affilati? Tu o Radical Racer? I tuoi mi sembrano più affilati! Mega Rex contro Radical Racer! Questi Monster Trucks sono combattivi! L'atmosfera si sta scaldando! Vai col replay! Via, via, via! È stato incredibile! Entrambi i Monster Trucks fanno una bella partenza! Radical Racer è in vantaggio sulla discesa più ripida! Si preparano testa a testa per il salto attraverso l'anello di fuoco! Sembra che Mega Rex sia stato colpito da un attacco di fame e abbia morso l'anello di fuoco! Radical Racer riesce a superare il traguardo e passa al prossimo round! Un'esplosione! Pure Muscle! Contro Bone Shaker! Pronti! Partenza! Via! Bo-bo-bo-bo-bom! Due veri cattivi ragazzi! Sono stati meravigliosi! Vediamo il replay! Bone Shaker riesce a tenere le ruote attaccate alla pista ed è in vantaggio! Pure Muscle si dimentica di allungarsi e non prende abbastanza spinta per il super salto! Bone Shaker invece attraversa perfettamente l'anello di fuoco! Dimostrando di essere il più bravo! Vince! Bone Shaker! Vincere e distruggere! Passiamo alla semifinale! Race Ace si sta scaldando per la prossima gara con l'aiuto del pubblico! Race Ace! Race Ace! Non c'è niente come un pubblico chiassoso per darti la giusta carica di adrenalina! Woohoo! Vediamo se Race Ace riesce a utilizzare questa energia per la gara! Race Ace contro... Tiger Shark! Il vincitore passerà in finale! Che gara! Questi Monster Trucks iniziano con un testa a testa! In cima alla collina Tiger Shark sfiora con la sua ruota Race Ace! Eccola spenta per fare il super salto! Race Ace fa quello che gli riesce meglio e fa un salto perfetto! Riesce a superare l'anello di fuoco e arriva al traguardo! Che eleganza! Meraviglioso! Tiger Shark non riesce a fare il salto e finisce contro la montagna! Ciao ciao Tiger Shark! Race Ace si qualifica per la finale! È per questo che mi chiamano campione! Woohoo! Siamo qui con Bone Shaker, il cattivo ragazzo ribelle che si sta preparando per la semifinale! La pista è bollente! Ma ho intenzione di scaldare l'atmosfera! Sono pronto! Radical Racer contro Bone Shaker! Tenetevi forte! Questa sarà una bella sfida! Avete visto che roba? È un inizio turbolento per questi Monster Trucks! Bone Shaker passa in vantaggio nell'ultima discesa! Ed è il primo a fare il super salto! Riesci ad attraversare l'anello di fuoco! Oh no! Radical Racer finisce tra le fiamme e si ribalta! Bone Shaker è il primo a superare il traguardo e va dritto in finale! Da oggi in poi chiamatemi fuoco e fiamme! Ci troviamo nell'arena del vulcano! I nostri finalisti si stanno preparando per la gara! Il vostro temerario preferito si scontrerà con il vostro cattivo ragazzo preferito che riuscirà a gestire le fiamme! Sicuramente io! Le fiamme non mi spaventano! Sono pronto a fare faville! Ci siamo! Riesci e Bone Shaker stanno per scontrarsi per vincere la Coppa dei Titani! Forza Monster Trucks! È ora di volare! Bone Shaker parte subito in vantaggio! Riesci prova a recuperare ma perde il controllo prima del super salto! Bone Shaker riesce a prendere la spinta! Si lancia lateralmente nell'anello di fuoco e... Atterra su quattro ruote superando il traguardo! Il pubblico è invisibilio! Questo teschio ha fatto faville! Siamo arrivati alla fine, gente! Bone Shaker ha vinto e si porta a casa la meritatissima Coppa dei Titani! Al prossimo appuntamento per un altro Torneo dei Titani! Al prossimo applauso! Al prossimo applauso.. Grazie a tutti.